Polman a fuoco, disagina 12 per il mezzo in fiamma all'altezza dell'uscita del casello di Deiva Marine, illesi autista e passeggeri. In cattedrale forze dell'ordine la polizia dello Stato terrà in tutta la regione lezioni agli studenti contro i rischi della rete. Invece oggi si è tenuto il primo appuntamento a Chiavari voluto dai carabinieri per mettere in guardia gli anziani dalle truffe. Presidio per difendere il latte, oggi a Genova la manifestazione di col di reti allevatori per tutelare il prodotto italiano. Alternanza scuola lavoro, sono orientati i ragazzi che hanno vissuto tre giorni di formazione a bordo di un'andave da crociera. L'assessore regionale Ilaria Cava ha ribadito le finalità del progetto. Vince il Sersi nel turno infrasettimanale di Serie D, Corsari hanno sconfitto l'Aqui per 3 a 0. La Lavagnese ha pareggiato 1 a 1 in trasferta contro il Borgossese, mentre l'Araparo Bogliasco è stato sconfitto dalla Caronese per 1 a 0. Gozzi 1 Chiarelli 0 sulla disputa del nome Intella nelle aule del Tribunale. Il primo round va al patron della Virtus Intella, ma il presidente dell'Intella di terza categoria promette ricorso in appello. Buonasera dal TG Tegulia, apriamo con una notizia che è arrivata poco fa perché ci sono stati momenti drammatici sull'autostrada a 12 tra Sestri Levante e Deva Marina per l'incendio di un pullman avvenuto intorno alle 18. Quindi poche ore fa i lesi, l'autista e le persone che si trovavano sul mezzo fatte scendere rapidamente mentre le fiamme avvolgevano il mezzo. Traffico ovviamente bloccato con uscita obbligatoria a Sestri Levante. Sul posto si sono recati i vigili fuoco del distaccamento di Chiaveri, ma anche quelli di Brugnato. Questo è la polizia stradale di Brugnato. L'incendio probabilmente è partito dal surriscaldamento del motore e è avvenuto all'altezza dell'uscita autostradale di Deva Marina e sono in corso le operazioni per assistere gli occupanti dell'autobus. Adesso cambiamo decisamente argomento. Salgono in cattedra le forze dell'ordine, in particolare la polizia, a tenere in tutta la Liguria lezione gli studenti per contrastare i rischi che può comportare la rete. La polizia di Stato sale in cattedra per aiutare i giovani della Liguria a prevenire i rischi della rete. Il compartimento delle comunicazioni sarà impegnato anche quest'anno in una vasta attività di prevenzione e di educazione alla legalità rivolta ai ragazzi. L'obiettivo è quello di superare i 15.000 Liguri incontrati lo scorso anno scolastico. L'importanza di questa attività è testimoniata dal fatto che dall'inizio dell'anno scolastico sono già diverse decine le domande pervenute da dirigenti scolastici e rappresentanti di genitori che richiedono incontri articolati rivolti a personale delle scuole, a studenti e loro genitori sulle responsabilità e sui rischi connessi all'utilizzo della rete. Gli incontri avranno la durata di circa 90 minuti e verranno illustrate caratteristiche e potenzialità degli strumenti di internet con parecchi esempi di situazioni già affrontate dagli specialisti nella sicurezza su internet della polizia postale e delle comunicazioni. I relatori raggiungeranno i ragazzi nelle scuole di tutta la regione dunque ed intanto la polizia ha stilato un utile vademecone per gli studenti. Tenere il dispositivo ben protetto con antivirus ed aggiornare sempre il software. Prima di pubblicare qualsiasi cosa, pensarci bene, fotografie, video, commenti, messaggi possono essere visti da sconosciuti e potrebbero rimanere in rete per sempre. Proteggere le informazioni personali e valutare attentamente prima di inserirle su internet. Scegliere con cura le password e non usare la stessa per siti diversi. E ancora, attenzione agli incontri con persone conosciute in rete. Nelle chat, nei blog, nei forum, nei giochi, non dare mai il proprio nome, cognome, indirizzo, numero di cellulare o di casa. Non scaricare programmi se non se ne conosce la provenienza. Attenzione ai falsi messaggi allarmistici, offerte imperdibili, richieste di aiuto. Sui social, controllare chi può vedere il profilo e le informazioni. Infine rispettare l'insieme di regole di comportamento di internet. Questo per quanto riguarda internet appunto, ma come detto anche per quanto riguarda la truffa ai danni della popolazione anziana, si è tenuto oggi il primo di una serie di incontri rivolti a questa fascia di età voluti dalla compagnia dei carabinieri di Chiavari. L'appuntamento si è svolto presso il centro Benedetto a Cuarone, quindi per sensibilizzare gli anziani ad evitare di essere truffati da malviventi. E adesso parliamo di Coldiretti perché si è concluso alle 18 di oggi a Genova il presidio della Coldiretti a difesa dell'atto italiano. Dopo un'intera giornata odiana non si escludono altre iniziative nei prossimi giorni. Presidio degli allevatori e di Coldiretti Liguria oggi al termine al Traghetti di Genova per la difesa del latte e dei consumatori. L'iniziativa rientra nell'ambito della mobilitazione nazionale per la difesa del latte italiano e per la tutela dei lavoratori del settore schiacciati dalle multinazionali con prezzi di acquisto inferiori ai costi di produzione. Dice Coldiretti, il latte italiano viene sostituito con latte di provenienza sconosciuta, senza l'indicazione dell'origine in etichetta e senza trasparenza sugli ingredienti utilizzati. Meglio chiudere e abbandonare tutto, così la pensano gli allevatori del settore latte dell'Appennino Ligure. Dal 2010 i capi sono in continua diminuzione. Il latte ormai è una commodity, spiega il presidente regionale di Coldiretti Gerolamo Calleri, attorno a cui ruotano interessi economici di livello mondiale. La Liguria, oltre a rappresentare una piccola goccia della produzione nazionale, sconta una situazione orografica particolarmente difficile e una cronica mancanza di vie di accesso che rendono la raccolta del latte assolutamente antieconomica, soprattutto se rapportata alle piccole quantità prodotte. Secondo Calleri, una via di uscita potrebbe essere la trasformazione del latte in formaggi. In questo la Liguria non è seconda a nessuno, potendo contare tra molte produzioni tipiche e tradizionali. Basti pensare che è la quarta regione italiana per numero di prodotti iscritti nell'elenco nazionale e tra questi 20 sono proprio Lattiero Caseari specifica. Sicuramente la trasformazione del latte in formaggio aumenta il valore aggiunto della materia prima e ne allunga la vita commerciale, rendendo giustizia un patrimonio di fatica e sudore. Ma il latte non è solo formaggio, è anche yogurt, gelati, dolci, un prodotto che si presta a mille utilizzi. Abbiamo necessità di creare una rete economica imprenditoriale per utilizzare un prodotto con caratteristiche nutrizionali e di salubrità assolutamente sopra la media, chiude Calleri. Per questo, col diretti Liguria, chiede un forte impegno da parte delle istituzioni locali e nazionali per garantire il giusto reddito alle imprese e segnala come sia necessario che l'Unione Europea sia più attenta alle esigenze dei propri territori e dei propri cittadini. Cronaca, i carabinieri di Recco, durante un servizio preventivo in prossimità del mercato rionale, hanno fermato e denunciato per soggiorno illegale nel territorio un brasiliano di 28 anni con precedenti di polizia. Adesso invece parliamo dell'alternanza scuola-lavoro. Sono orientati i ragazzi che hanno vissuto tre giorni di formazione a bordo di una nave da crociera. L'assessore regionale Ilaria Cavo ha ribadito le finalità del progetto. Sono ritornati ieri sera a Genova i 259 ragazzi che hanno partecipato alla crociera 6, loro ospitata su grandi navi veloci nell'ambito di uno specifico progetto del Salone Orientamenti. Gli studenti partecipanti, di cui 150 Liguri, provenienti in parte dagli istituti nautici e in parte da quelli alberghieri, si sono imbarcati sabato scorso a Genova con destinazione Palermo ed hanno concluso il loro viaggio ieri sera a Ponte Azzereto. Presente l'assessore regionale alla Scuola Università e Formazione Ilaria Cavo, un'occasione per incontrare i ragazzi e farsi raccontare la full immersion di tre giorni di vera alternanza scuola-lavoro. Io penso che l'entusiasmo di questi ragazzi sia veramente incredibile e ci dia grande forza per capire che questo è un progetto che funziona e che deve essere ancora potenziato. Io sono molto felice perché a bordo di questa nave avevamo degli studenti Liguri, ma avevamo studenti da tutte le regioni d'Italia e anche dalla Francia con una collaborazione con l'ufficio regionale scolastico francese. Quindi penso che quello che hanno acquisito qui a bordo i ragazzi e ce l'hanno dimostrato, ce l'hanno detto, di esperienza sul campo, di alternanza scuola-lavoro, ma anche di esperienza di contatto tra culture diverse, con studenti anche stranieri, credo che sia qualcosa, un bagaglio che davvero si portano a casa per la costruzione del loro futuro. E raccostruiamoci il futuro, questo progetto finisce questa sera con l'arrivo di questi ragazzi e credo che debba essere potenziato come progetto sailor. E io penso che sia indispensabile a questo punto andare a Bruxelles, proporre questo progetto a livello europeo perché il prossimo anno non solo venga potenziato nella durata. Questi ragazzi hanno fatto tre giorni a bordo, ma sentivo che dicevano bellissimo ma vogliamo vedere ancora, vogliamo vedere di più. Potenziato magari renderlo anche due volte all'anno, quindi non soltanto un appuntamento annuale ma due, e provare a portare i ragazzi da tutta Europa. Quindi non soltanto dalla Francia con cui abbiamo avviato un bellissimo rapporto, ma anche dagli altri paesi europei. Penso che a quel punto l'esperienza sia sul campo delle professioni del mare, perché questo hanno fatto, hanno fatto laboratori in tutte le fasi di questa crociera. Ovviamente ognuno secondo le proprie aspirazioni e competenze per testare che cos'è il lavoro a bordo, ma davvero si sono scambiate anche esperienze di vita. Più ragazzi portiamo da tutta Europa, più credo che questo progetto possa funzionare in senso lato. Credo che non ci fosse davvero modo migliore per chiudere, e costruiamoci il futuro che ha avuto un grande successo, perché Orientamenti ha fatto il boom quest'anno di presenze e credo che davvero l'offerta formativa che abbiamo dato sia importante e ci stimoli per fare ancora meglio il prossimo anno. Notizia di servizio, Idro Tiguglio informa che per eseguire la riparazione di una perdita sulla tubazione principale della rete idrica di Chiavari sarà interrotta l'erogazione dell'acqua potabile da stasera, dalle ore 21 fino a domani mattina alle ore 7.30. Potranno inoltre verificarsi cali di pressione con mancanza d'acqua su un intero territorio comunale. In fase di riapertura dell'erogazione potrebbero esserci poi i temporani intorbimenti dell'acqua. Quindi da stasera, dalle ore 21 fino a domani mattina alle 7.30, ci sarà appunto l'interruzione dell'erogazione dell'acqua potabile a Chiavari. Adesso parliamo di contributi regionali per far vivere meglio nelle proprie case delle persone disabili. Ecco il nuovo provvedimento dell'ente genovese. Nuove risorse per migliorare la vita dei disabili nelle loro case. La Regione Liguria ha stanziato 500.000 euro di contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche con un provvedimento contenuto nell'assestamento di bilancio approvato dal Consiglio, come conferma l'assessore all'edilizia Marco Scaiola. Tale somma, dalle prime stime sarebbe in grado di liquidare circa 120 richieste della graduatoria che attualmente, prima dello stanziamento, comprendeva 176 domande. 500.000 euro sono una cifra importante da poter utilizzare per consentire a chi ha disabilità di vivere meglio nella propria casa a seconda delle proprie necessità. Altri 500.000 verranno stanziati anche nel 2016 e cercheremo di avere più risorse per i portatori di Endicap anche cercando finanziamenti dall'Unione Europea, aggiunge Scaiola. La norma prevede la concessione di contributi in conto capitale per opere in abitazioni private dove risiedono i disabili. Possono riguardare sia all'interno sia all'esterno dell'abitazione le parti comuni dell'edificio, dall'allargamento porte, servizi igienici, ascivoli, pedane, montascale, ascensori. I contributi sono erogati dal Comune di Residenza sulla base di una graduatoria regionale che viene aggiornata annualmente. E Mediterranea delle Acque informa che da domani gli sportelli di Santo Stefano Davito e Borzonasca osserveranno il seguente orario di apertura a Santo Stefano in Piazza del Popolo il giovedì dalle 10.30 a mezzogiorno e mezzo a Borzonasca invece in Via Grilli sempre giovedì dalle 14.30 alle 16.30 e da questo venerdì ci spostiamo in Val Petronio fino al 18 dicembre è possibile prendere parte alla nuova iniziativa di Arci Ragazzi che si terrà a Casarza Ligure parole per pensare, riflettere, emozionare. Arriva una nuova iniziativa a cura di Arci Ragazzi Tiguglio che si svolgerà a Casarza Ligure all'auditorium di Villa Sottani sa di incominciare da questo venerdì. Metti un venerdì sera un libro, ovvero? Un'iniziativa per promuovere la lettura non solo fra i bimbi e i ragazzi come facciamo sempre con l'Arci Ragazzi Tiguglio ma anche un po' fra gli adulti con libri e approfondimenti di autori locali iniziamo subito da venerdì 13 con Dei Segni dell'anima una bellissima opera saggistica scritta dalla dottoressa Anna Scelzo che lavora qua da noi alla ASL 4 una psicologa, una psicoterapeuta che si è occupata dell'uso del mandala per curare pazienti affetti da disturbi dell'alimentazione. Ma ci sarà anche spazio per la poesia ad esempio? Assolutamente sì con il pluripremiato scrittore chiavarese Roberto Marzano che propone sia un libro di poesie sia un romanzo sotto Natale sarà in atmosfera super natalizia. Ritornerà di fatti lui il 18 dicembre in mezzo l'11 dicembre cosa c'è? Una disciplina non tanto conosciuta ma molto molto importante che è la programmazione neurolinguistica molto usata dalla politica al web marketing, alla psicologia. Quindi serate un po' diversi e aperte a tutti? Aperte a tutti con ingresso libero o con un bel te caldo per ristorarci negli appuntamenti alle ore 21 e invece nell'ultimo appuntamento quello del 18 che sarà alle ore 19 aperi cena natalizio. Seconda parte del nostro telegiornale a pochi giorni dall'udienza dibattimentale del 3 dicembre presso la Corte di Giustizia Europea fissata alcuni mesi prima rispetto a quanto previsto in cui si discuterà del destino del comparto balneare italiano e della validità della proroga del 2020 il capogruppo di Forza Italia in Regione Ligure Angelo Vaccarezza e consigliere Claudio Muzio hanno presentato una mozione affinché il presidente Giovanni Totti e la sua giunta agiscano nei confronti del governo in modo tale che il Parlamento nell'ambito della legge di stabilità 2016 prolunghi la scadenza delle concessioni in essere in un periodo transitorio non inferiore a 30 anni nell'ottica di una politica di doppio binario senza peraltro percludere la possibilità di ritornare l'applicazione di contratti a tempo indeterminato fatto salvo l'ipotesi di ragioni di pubblico interesse e adesso parliamo di tribunali di nomi quello dell'Entella vince per il momento la virtuose Entella di Antonio Gozzi perché il tribunale di Genova ha dato ragione proprio a lui ma Chiarelli presidente dell'Entella di terza categoria promette o meglio minaccia di ricorrere in appello vediamo la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di Genova ha dato ragione alla virtuose Entella respingendo ogni pretesa sull'utilizzo esclusivo del nome Entella avanzata da Mauro Chiarelli presidente dell'Entella che milita nel campionato di terza categoria il tribunale ha anche condannato la controparte al pagamento delle spese legali l'Entella siamo noi pensate che una squadra di terza categoria non voleva neppure farci festeggiare il centenario ha sottolineato il presidente della virtuose Entella Antonio Gozzi d'ora in avanti non ci saranno più dubbi e nessuno potrà limitarci nell'uso del nostro nome ma Chiarelli fa sapere attraverso lo studio legale Granara che farà ricorso in appello è una sentenza ingiusta afferma il presidente del club che milita in terza categoria ci sono tre gradi di giudizio e andremo avanti la vicenda come noto nasce dalla lamentela di Chiarelli del presunto uso improprio del nomentela fatto in questi anni dalla società di Gozzi l'obiettivo è vietare nell'uso a quest'ultima nonché chiedere un risarcimento d'anni tutto parte dall'estate 2001 dopo un quarto posto in eccellenza una Coppa Italia vinta quando il presidente Riccardo Omar Ciancilla non iscrisse l'Entella al campionato che sarebbe ripartito a settembre Chiarelli all'epoca presidente della ciriese Old Boys in seconda categoria prese il nome della società appena fallita e cambiò quello della sua squadra trasformandola in AC Pro Entella 1914 nel 2002 e poi AC Entella Chiavari in 1914 nel 2003 parallelamente dopo la stagione in cui lo stadio comunale di Chiavari rimase chiuso e senza calcio nel 2001 2002 il settore giovanile dell'Entella si unì nel 2002 al Valle Sturla ma ci fu la fusione tra i neroverdi di Bozzanasca e la Chiavari di Lames nel 2003 operazione che non piacca a quelli della colmata che si staccarono immediatamente dall'ambizioso progetto da questa fusione che diede origine al Chiavari VL in eccellenza nei campionati 2003-2004 e 2004-2005 nacque a sua volta la Vieto Centella oggi in Serie B insomma se ne stanno giovando gli avvocati visto che si va avanti già da un po' per questa questione cambiamo ancora argomento apriamo una piccola parentesi perché domani alle ore 9 fino alle 13 Ayusia terrà un banco a Lavagna nella piazza del mercato a fianco alla Palma su Via Roma materiale informativo su varie campagne animaliste e zoofile saranno a disposizione e quindi l'appuntamento ricordiamo è dalle 9 alle 13 a Lavagna adesso parliamo di calcio quello giocato perché oggi si è giocato il turno infrasettimanale di Serie D il tredicesimo per la precisione vediamo i risultati la Lavagnese ha pareggiato in trasferta 1-1 contro il Borgossese per la Lavagnese è andata a segno Ballestrero Bianconiere che è andato anche in vantaggio poi c'è stato il ritorno del Borgossese a calcio fatto il pareggio il Rapallo Bogliasco purtroppo ha perso ma era anche prevedibile perché ha perso contro la Caronese 1-0 Caronese che è la capolista del campionato di Serie D poi gli altri risultati a Castellazzo Bormida Sporting Benizzago 3 Castellazzo 0 a Genova l'Argentina batte Ligona 2-0 a Novi Ligure il deltono batte Novese 1-0 a Voghera il Chieri batte l'oltrepo a Voghera 2-0 a Pinerolo il Brasco un figio Pinerolo 2-1 Pro Settimo Fezzanese 2-0 Sesto Elevante Acqui 3-0 doppietta di Marinai e Zizzari e a Vado Ligure vittoria del Gozzano 2-1 contro il Vado per una classifica che vede dopo 13 giornate la Caronese in testa con 33 punti finora imbattuta la squadra Rosso-Blu poi a 26 punti abbiamo lo Spadighe Beninzago e la Lavagnese e il Chieri con 26 punti e il Gozzano a 25 Pinerolo 24 Argentina 22 Sesto Elevante 21 oltre a Provoghera 20 Bra 19 Dertone 18 Novese e Borgosesi a 17 Pro Settimo 15 Ligure 13 punti Vado 12 punti Acqui 11 punti Rapallo Bogliasco Fezzanese 7 punti chiude la classifica Castellazzo Bormida con 6 punti e allora dopo aver letto risultati e classifica andiamo con il servizio della partita di oggi pomeriggio a Sivori tra Sestri e Acqui Corsari anzi Marinai di nome e di fatto grazie ad una sua doppietta infatti ad una rete di Zizzari il Sesto Elevante sconfigge l'Aqui per 3 a 0 il primo tempo nonostante la superiorità territoriale dei Rossoblu è inchiodato sullo 0 a 0 la prima occasione è proprio dei padroni di casa al 28esimo compane è entrato in campo dopo appena due minuti per un infortunio alla spagna dei Gallotti ma al suo tiro si spegne a lato di poco alla mezz'ora tiro di Zizzari da posizione decentrata e Scaffia devia in corner al 39esimo si fanno vedere i Termali con un colpo di testa di Cesca che finisce fuori di poco la ripresa si apre al 49esimo con il traversone di pane dalla destra ma nei Zizzari né Mobiglio arrivano puntuali all'appuntamento con il gol al 58esimo ecco però l'episodio che spezza l'equilibrio della partita contatto in aria tra Benebid e Zizzari l'arbitro prima estrae il cartellino giallo per i difensori dell'Aqui e poi assegna rigore ai corsari dal dischetto Marinai spiazza il portiere avversario al 67esimo raddoppio dell'Unione cannonata con il sinistro dal limite dell'area ancora di Marinai e palla che finisce in rete il definitivo 3 a 0 porta alla firma di Zizzari che di piatto insacca le spalle del portiere piemontese cammiamo ancora argomento si concluderà domenica 22 novembre a Savignone il concorso Mieli dei Parchi della Liguria edizione 2015 di cui è stato capofile organizzatore del Parco dell'Antola durante la giornata si trarà il tradizionale convegno appistico e la cerimonia di premiazione dei migliori Mieli Liguri nato con l'obiettivo di promuovere e valorizzare Mieli Ligure e accrescere nella qualità attraverso la verifica delle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche il concorso è rivolto agli apicoltori che operano nelle aree protette della regione Liguria e si svolge ogni anno dal 1999 anche quest'anno numerosi apicoltori del territorio del Parco dell'Avito hanno preso parte al concorso sono infatti 13 partecipanti con ben 38 campioni di miele presentati in prevalenza Castagno ma anche Millefiori e Robigna e ieri sera si è svolta a Chiaveri al Gran Caffè de Villa la riunione del Juventus Doc Club di Chiaveri ci racconta come è andata lo stesso presidente del club di tifosi bianconeri oggi abbiamo fatto la riunione per fare il rinnovo delle tessere che noi dobbiamo consegnare tutto l'elenco dei nuovi associati tra l'altro anche quelli che l'hanno rinnovata entro la metà di dicembre che poi verranno date le tessere a febbraio e più o meno adesso siamo sui 215 eravamo partiti che avevamo addirittura 350 soci purtroppo il motivo è stato che la Juventus purtroppo non è che manda giocatori c'era un grande entusiasmo inizialmente perché si pensava che la Juventus magari una volta all'anno facevamo una festa ci mandava un giocatore o due invece purtroppo la Juventus quelle cose lì non le fa più dato con la nuova dirigenza ha abolito tutto quanto quello e allora tanti soci hanno un po' traslito un po' siamo uno mi sembra di tutti i club d'Italia siamo al 36esimo posto praticamente in tutta Italia ce ne sono parecchi club tra l'altro diciamo che il nostro club è stato fondato cinque anni fa praticamente è uno dei club molto attivi e se scrivesse bisogna andare bisogna contattare noi qualcosa del club di Chiaveri che abbiamo la sede al bar delle carosse qua invece facciamo la riunione al defile per scriversare al club si devono dare tutti i dati data di nascita come la solita prassi data di nascita residenza tutto quanto poi ci danno i dati a noi e noi li scriviamo al club a quel punto lì praticamente sono soci del Juventus club di Chiaveri quel punto lì noi li mandiamo al centro coordinamento questi trovatori dalla sede della Juventus e lì ci mandano il tesseramento che immediatamente vengono iscritti e poi c'è ancora un altro vantaggio essendo iscritti al Juventus club che succede danno una testa con quella testarista che può andare al Juventus store comprare una maglietta un pallone o quello che sia qualsiasi gage c'è il 10% di sconto praticamente anche quando ci danno la testa loro ci danno sempre dei gage praticamente i soldi che si pagano ce li abbiamo indietro poi c'è un altro vantaggio essendo iscritti al club doc c'è anche la possibilità di avere i biglietti per le partite perché a noi ci danno sempre un gruppo di biglietti a volte 6 a volte 7 a volte 8 però quelli li devono usare solo con iscritti al club sapevo della fede giuventina di Roberto Levaggi sindaco di Chiaveri non sapevo della fede giuventina di Pino Sanguinetti sindaco di Lavagna che erano presenti alla serata va bene termina il nostro telegiornale adesso vi lascio alle previsioni del medio per la giornata di domani e poi ovviamente vi lascio al resto della programmazione di Interla TV l'informazione torna come sempre domani ricordo gli orari 12.45 14.15 19.30 22.45 poi ci sono anche le edizioni delle 2 di notte e poi se volete quella delle 7 del mattino del giorno successivo bene termina qua ancora buona serata ci vediamo domani previsioni per domani giovedì 12 novembre un debole flusso nord orientale porterà ad una parziale attenuazione degli addensamenti marittimi costieri nel corso della giornata a partire da Levante venti deboli variabili con qualche rinforzo da est nord est nelle zone interne mare quasi calmo umidità su valori medio alti le temperature previste sulla costa tra 13 e 21 gradi nell'entroterra tra 12 e 21 gradi grazie a tutti Grazie a tutti.